Amici miei, stiamo per divertirci con Uccio De Santis in Villa Comunale la sera del 14. Vi invito tutti a partecipare all'evento, ci faremo due risate insieme e poi vi invito tutti a venire in Villa Comunale a piedi. Il corso sarà chiuso, chi può raggiungere la villa a piedi lo faccia. Chi abita troppo lontano e quindi ha bisogno di accorciare il tragitto troverà dei parcheggi presegnalati, usate quei parcheggi, seguite le istruzioni dei nostri volontari, parcheggiando a breve distanza dalla villa comunale così ci potremo godere lo spettacolo in totale letizia e anche con ordine e disciplina.